Su server dedicati di Aruba, con un progetto puoi creare e gestire la tua infrastruttura IT. Semplifica l'amministrazione e tieni sotto controllo i costi. Decidi il nome del progetto, per esempio quello di un tuo cliente, di un processo aziendale o delle tue applicazioni. Componi la tua infrastruttura, scegliendo server, switch, firewall ed altri elementi. Monitora l'insieme di tutti i tuoi progetti attraverso una panoramica intuitiva e completa. E se vuoi capire la composizione di uno di loro, puoi farlo in un attimo. Puoi aggiungere nuovi servizi. Monitorare le spese e pianificare upgrade. Fai evolvere la tua infrastruttura. Crea ora il tuo primo progetto con Aruba Server dedicati. Fai evolvere la tua infrastruttura.